benvenuti amici appassionati a questo nuovo appuntamento targato anaxos pro racing stiamo tornando dalla monti play dalla monti play edizione 2016 edizione vinta da domenico cubeta diciamo dominata da domenico cubeta dall'inizio alla fine praticamente perché ha vinto tutte tutte le mance di chi era lui siamo in compagnia dell'amico angelo guzzetta del presidente della puntese corse antonio gurgone e vi illustreremo quelle che sono le classifiche delle dei vari gruppi quindi faremo na racing start e uno e poi intanto iniziamo con l'assoluta i primi dieci sono domenico cubeta condicello condicelli vincenzo staccato di diciamo anche di stacchi magari diciamo nella somma dei tempi nella somma dei tempi come allora diciamo che è staccato di 9 secondi e 69 quindi una vittoria diciamo abbastanza poi terzo con ticelli francesco distaccato di 11 secondi quarto castiglione giuseppe giuseppe accato da di 13 secondi e 50 ok cassippa samuele 13 secondi 89 cassippa giovanni 20 secondi già incominciano a salire i distacchi un'ottima prestazione eccellente per la vettura parliamo di luca caruso con una radical 1.6 diciamo si è posizionato al settimo posto assoluto con un distacco di 21 secondi quindi diciamo abbastanza ridosso dei primi quest'anno luca sta facendo vivare qualche appuntamento del 5m nel quale ha fatto bellissime prestazioni belle figure non ha sfigurato assolutamente a presto ottavo ferrage da francesco staccato di 28 secondi e 90 nono nicastro 29 secondi e decimo marinello orazio a rientro dopo qualche anno di fermo ok questi sono i primi dieci assoluti della crono scalata andiamo con andiamo con con col gruppo a facciamo il gruppo a casualmente facciamo felice casualmente stava stava trepitando casualmente diciamo stessa cosa come ha detto proprio fa enzo naxos enzo moroso ma noi lo chiamiamo affettuosamente enzo naxos diciamo vinte sia le gare di le due prove di prova e le due prove di gara le ha dominate come domina e parliamo di angelo guzzetta secondo quando stiamo rischiando di fare un condaro con un'altra macchina ma va bene lo stesso secondo calderone con un distacco di 9 secondi e mezzo ok terzo il buon iron grande amico andrea marziano al rientro con la sua saxon sempre tra virgolette curata dalla guzzetta assetto come assetto e dal signor di stefano per quanto riguarda la parte motoristica che si ha un distacco di 12 secondi e 28 ok sempre stiamo parlando di distacco complessivo sulle due mangi sulle due mangi il quarto del gruppo a è cavallo io 2000 con un distacco di 18 secondi e il quinto il inossidabile davvero salvatore ricidra su una griovidians con un distacco di 20 secondi ok passiamo adesso al gruppo n ce l'abbiamo siamo gruppo n gruppo n diciamo che il gruppo n stacca il bello della diretta possiamo staccarlo abbiamo staccato non diciamo anzi lo diciamo a chi abbiamo rifiutato la chiamata l'abbiamo richiamata l'abbiamo rifiutata a davide gioccianni detto il marinaio che oggi era impegnato allo slalom di novara di sicilia che non vi diciamo cosa ha fatto perché ve lo faremo sapere con un bell'articoletto sul nostro sito vediamo di realizzarlo quanto prima è possibile il gruppo n è stato davvero forse la il gruppo dove c'è stata molta più lotta rispetto agli altri diciamo tempi proprio attaccati l'ultimo attaccato l'ultimo attaccato il gruppo n lo vince salvatore monzone il secondo è rosario alessi rosario che perfetto c'è la cosa vi dico soltanto che nelle due salite di gara cioè qui ne parliamo due salite di gara il distacco delle due salite di 0,18 millesimi attaccatissimo il terzo il terzo figliere antonio staccato di 0,32 millesimi mamma mia che garone il quarto è il nostro dico nostro perché salvatore buzzetta prima con una scalata in assoluto nella sua carriera e si piazza a quarto posto con un distacco diciamo che direi che va bene diciamo che va bene tre secondi e otto nella somma delle due nella prima salita della tua vita tre secondi che vuoi anche fare altre cose con sabato una febbra di 39 e l'abbiamo cercato di curare quinto è stato davvero quinto con un distacco di otto secondi e 40 passiamo al gruppo passiamo al gruppo minicar ah le minicar nelle quale c'è stata una bella battaglia eh diciamo oggi c'è stata una bella gara veramente nel gruppo minicar vittoria come al solito di Andrea Curenti di Andrea Curenti con record mi pare quanto ha fatto Andrea in una nella mancia più veloce ragazzi più veloce ha fatto 3,28,73 il secondo è stato Daniele Portale che diciamo nella somma delle due masce ha avuto 4 secondi di distacco nella somma delle due masce 4 secondi direi che si è abbastanza avvicinato Daniele ad Andrea è stato l'unico che è riuscito a contrastare Andrea davvero perché gli altri hanno distacchi leggermente più alti il terzo è Morabito Domenico già con 13 secondi e 8 di distacco il quarto Lizio con 14 secondi e 6 e il quinto Marco Monaco con 15 secondi di distacco gli stacchi diciamo abbastanza consistenti a parte i primi due sono sono abbastanza indietro agli altri hanno lavorato ci sarà tempo comunque il cosa dovevamo le racing start mi pare che manchino le racing start diciamo che Enzo se come fanno dovesse andare a guardare una per una e adesso non le possiamo controllate ve le vuoi su FHR ragazzi questo è il quanto da chiaro Monteculfi edizione 2016 terminata abbiamo sperimentato oggi per la prima volta la diretta su youtube la diretta streaming della prima masce purtroppo non abbiamo potuto fare la seconda per dei piccoli problemi tecnici sembra che sia andata discretamente quindi non sappiamo un attimino se riusciremo a continuarla sul nostro canale youtube o magari ritornare indietro direttamente sul nostro sito con quindi vediamo un attimino vi daremo aggiornate sul nostro sito vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale youtube a cliccare mi piace a condividere questo video se vi è piaciuto se non vi è piaciuto fate come vi pare ci rivediamo molto presto seguiteci perché in questi due giorni di martedì caricheremo tutti i video realizzati sabato e domenica compresi molti camera car di cui anticipiamo quello del guzza è il camera car di antonio fiore quindi stateci un attimino a seguire e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima una buona serata ciao 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 ciao